Ingresso su soggiorno, cucina separata, tre camere da letto, matrimoniale doppia e singola, due bagni entrambi finestrati, oltre a balcone, garage e cantina. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere quest'appartamento in vendita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita.